Se c'è tanto male nel mondo e forse perché Dio non agisce, no di certo. Dio agisce, semina nel mondo bene, giustizia, fraternità, il buon grano. Ma nel mondo c'è anche tanto male, odio, cattiveria, divisione, la zizzania. E' il demonio che semina tutto questo. Il demonio. Ma non è una cosa del medioevo a parlare del diavolo? No di certo. Il diavolo esiste. Ci sono cose talmente malvagie nel mondo che non possono essere frutto solo dell'uomo. Ad esempio la povertà del terzo mondo che è il redimibile. Il redimibile è stata creata dall'uomo.